Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito rimane stabile ad agosto al 4,9% invariato rispetto a luglio. Il numero di persone che chiedono sussidi di disoccupazione è però cresciuto di 700 unità nello stesso periodo. Se si guarda il tasso di occupazione invece si scopre che è il più alto da quando esistono queste rilevazioni. Diminuisce anche il numero di coloro che non cercano lavoro. Sono 8.800.000 persone tra i 16 e 64 anni, 231.000 in meno rispetto a un anno fa. Entrando nel dettaglio, nell'ultimo anno sono aumentati i contratti a tempo pieno, più 362.000 quasi del doppio rispetto a quelli a tempo parziale. I salari reali infine sono cresciuti mediamente dell'1,7%.